ciao a tutti ragazzi benvenuti sul canale gameplays un saluto al vostro amico salvo mi trovo qui su our legacy ragazzi sono nella parte a nord della della mappa e sono bloccato in questo enigma sono dentro una cripta del tesoro e non riesco a risolvere l'enigma sono io che chiedo aiuto ragazzi adesso vi mostro la mappa vediamo se riesco a mostrarmi la mappa ecco qua mi mostro dove mi trovo allora io mi trovo nella parte a nord in alto lì dove c'è il puntino non so se si riesce a vedere quello lampeggiante lì mi trovo in questa cripta ragazzi e non riesco assolutamente a risolvere questa enigma di qua questo che state vedendo con i sassi ho provato a mettere il sasso lì ho provato anche a metterlo lì davanti a cercare di spondarlo ma non succede nulla se qualcuno sa come fare ragazzi meno scrivere nei commenti sotto al video e io lo ringrazio l'ingresso pubblica il video